Per un'acqua sana e pura direttamente dalla rubinetto di casa Acquanova. Il sistema italiano di purificazione dell'acqua a norme del Ministero della Salute è garantito 10 anni. Prenotate la visita del consulente Acquanova per la prova gratuita della qualità dell'acqua del vostro rubinetto e per conoscere la gamma dei purificatori Acquanova. Dopo appena 24 ore dalla vostra scelta, un tecnico specializzato Acquanova installerà il vostro impianto in soli 30 minuti e avrete un'acqua pura e sana priva di qualsiasi impurità ideale per bere e cucinare. Acquanova, acqua sana e pura per il benessere di tutta la famiglia. Acquanova, acqua sana e pura direttamente dal vostro rubinetto. Acquanova, il sistema di purificazione dell'acqua ecologico e naturale. Pagherete, incomoderate e personalizzate. Chiamate adesso! Acquanova, una fonte di qualità e risparmio per tutta la famiglia e per tutta la vita. Acquanova, per vivere meglio!